buongiorno un bel po che non ci vediamo siamo appena usciti ora facciamo l'esca e oggi proviamo andare a sempre facciamo un po di alacce una volta non ci riusciamo qua se ci dovesse finire l'altra se no facciamo un loco intanto andiamo siamo arrivati ora caliamo già la canna di superficie è calata ora ne caliamo un'altra foto mentre guardiamo ed ecco il primo bello buongiorno 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 bel pesce bel pesciolino un paio di chili ok continuiamo eric buongiorno wow anche qua io su uno qua e lui lo è attaccato questo me lo devo dire che forza quasi bestiae bestiae Alla 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 E tutto fermato Alla 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 questo è preso malissimo perché non l'ho potevo fermare e anche questa tende wow e qua ce l'ho un po di venti per oggi va bene così inutile fare stracci divertente ci riproviamo domani ciao alla prossima